Eh, ogni tanto sono un po' così Ogni tanto ti scoppietta anche il mic È LOL che va in contrasto, non so perché Giros, non ci posso fare niente Non so perché LOL cari questi problemi Perché anche oggi pomeriggio che ho fatto Io lo sento, sai da cosa, Giros? Lo sento quando la gente suba C'è Welcome to the Phoenix Army Welcome back, con lì Senti che scoppietta un pochino Oggi pomeriggio che ero in live A spacchettare Yu-Gi-Oh Non lo sentivo Stasera che gioco a LOL, sì, quindi è un problema Ma c'è qualche conflitto con LOL Dovrei veramente Cercare su Google tipo Eh, mic popping Of Legends Boh Se qualcuno avesse voglia di Cercare di capire perché questa cosa Mi aiuterebbe, perché solo quando gioco a LOL Sento l'audio che fa Che scoppietta Oggi pomeriggio non c'era sto problema Io ho chiesto in chat E c'è gente Alcuni di voi mi hanno detto Sì, lo fa anche a me quando gioco Non è normale questa cosa Non è per niente normale questa cosa Belli, questi sono gli starting bundle ragazzi Così uno non compra le pozze Ma scommesse queste cose qua La fanno veramente per i senza mani Ecco, anche adesso ho sentito che ha scoppiettato Ho sentito che ha scoppiettato Quando c'è stato il sub Grazie Kaneki Dubstep per i 5 mesi Così bene Che ti darei mia madre Beh Ci si può pensare Grazie mille 5 mesi caro Grazie mille Il canetilol che fa interferenza Allora Dopo provo tipo a chiuderlo Dopo provo a mettere in postazione Che lo chiude durante il game Non penso Cioè mi fa strano che sia quello però Comunque ditemi anche voi se lo fa Cioè perché è strano Provate ad aprire LOL E a mettere qualsiasi video in sottofondo Anche forse la mia live Ditemi se è scoppietta Non ti permetterai mai più Mai più Ok? Mai più Va bene Antonio va bene Va bene Antonio Va bene Antonio Gin intanto quel quarto colpo Tire sul minion Non ti Non Non te lo do la soddisfazione Ok La mucca soffre un po' all'inizio Giustamente Perché non può fare nulla Ma poi sarà lui a soffrire ragazze Sarà lui a soffrire All'inizio si soffre Ci va bene Ci va bene così Dove è andato? Oddio Ah ok vuole andare Ma i miei minion Non si arrabbiano con lui In teoria i minion Si dovrebbero arrabbiare E picchiatelo Minchiono Siamo un po' più cattivo Onestamente Sono molto pacifici Diffici Bene va bene Li sacrifichiamo i minion Nessun problema Minchia che range Non me l'aspettavo proprio Anche lui sacrifica i minion Scommetto che non riesci A buttarlo sotto la tua torre Buttarlo sotto la tua torre Riesco anche a farlo Fargli prendere l'agro Non lo so Buttarlo sotto la torre È una cazzata Grazie line dei quattro mesi Bentornato Flash Q e W indietro Ma se tanto non ha l'agro Non serve a niente Come l'ha usato Il flash mastery Ah l'ho usato Un po' Goliardico Capisco Eh niente Ma lui l'ha usato Il suo flash Jean Eccolo Twitch All'lucky ragazzi All'lucky Va bene Io non l'ho usato Il mio non serve a niente ormai Dovevo usarlo subito Per scappare Ma ho detto Se mi sacrifico Lo killiamo Invece no Invece no Spero che Twitch Li ha rovinassi di più La wave Invece Non ce l'ha fatta Twitch non gli ha rovinato Abbastanza la wave Ma i minion Non si riescono più A hittare Come funziona Dove va questo Se andassi a gankare i bot Sì Ma che cazzo Ah è Huffman Interessante Interessante Molto bene Molto bene Ragazzi Clapperone Grazie mille Del sub Clapperone Bentornato Grazie mille Signora Clapperone Come va Ok Sta double kill Mi aiuterà Contro Jean Avesse preso un po' Più di minimo Avrei avuto già L'alternator Però niente Non posso vendere Il Doran's Ring Per l'alternator Quindi niente Tanto ancora Non riuscirei One shot Quindi Il game di prima Era iniziato meglio Ma ovviamente Hanno fatto remake Perché il nostro Jungle Non si è Presentato All'appello Ok Ok Questa è una Guarda qua Per spottare Jean Se mai Volesse andare A fare La sorpresa Al Drake Ma non Sembra Sacrificherò Tutti i million Necessari Ragazzi Non importa Merito alla storia Di Instagram Io gioco Da poco Sono bronzo E mi piace Guardare le tue Vive E il faro Sempre qualcosa Continua Così Bene Grazie Murlock Bravo Murlock Grazie mille D'erroi sub Fai molto bene Murlock Fai molto Molto bene Rieserebbe un sacco Essere gancato Dal mio Jungle Però la vedo Un po' dura Perfetto Se riesco a farmare Qualcosina È già tanto Però Mastri Dovrebbe gancarvi Mid Cioè io C'ho il Predator Quelli Lo asfaltiamo Vai Esatto Eh no Bobby Non questa volta Visto Cioè Lui può venire Tutte le volte Che vuole Lo asfaltiamo Quel tizio C'ho il Predator WQ E tanti saluti Ragazzi Fai i jungler Vuol dire anche Capire chi gancare Chi dare la priorità Dov'è il ganc free Gancare Garen Con Trind E Mastery Non credo proprio Ganc a mid Che c'è un Jin E c'è un Alistar Che è pronto a farti Mu in testa L'avversario È Molto semplice Molto semplice Mi prendo gli Yonen Ragazzi Perché avere il flash Prima è molto comodo Sono più fan Ovviamente Del Delle source Perché fanno fare più danno Però queste qua Costano meno Uno e due Ti danno Ti danno Summoner spell haste Sono tipo 40 Sono 33 secondi In meno sul flash Che è tanta Tanta roba Mezzo minuto in meno Avere mezzo minuto Prima il flash È tanta roba Come ben capirete Quindi insomma Peccato che qua La magic pen Flutter Tanta roba Perché C'hanno Parte gare Gli altri Sono 3 ADC Li one shot Av Vabbè Li one shot Lo stesso Magari Leggermente meno Ma li one shot Lo stesso Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene No no Pazzo Vabbè Mastery Zazzazzà E via E passa la paura Mastery Zazzazzà E passa la paura Oh E fammi pushare Ma che cazzo Vuoi da me Già ci metto 60 anni Anche senza Il tuo herald Di merda Ma poi sei Trinda Ma fattelo da solo Cioè guarda Se l'hai fatto Ma che vuoi da me L'hai fatto senza Fatica Se venivo lì Cosa cambiava Cioè Buio non capisco Ci ha messo 3 secondi A farlo Grazie Tom Grazie del sub Benvenuto A Virixarmi Grazie mille Tom Cioè Perché mi sei dovuto Scomodare Rovinare la wave Che magari finiva In push In slow push Per lui E non perdeva E non gli finiva Neanche sotto Torre Per cosa Per andare lì A tankargli 100 hp Ma vaffanculo Cioè Ma che cazzo Me ne frega Un pezzo di merda Vabbè qua Non ci posso dire Molto Ma davvero Tu vuoi passare Di qua Tu sei Completamente Fuori di testa Sparisci Ecco qua Ah c'è Twitch invisibile Io al massimo flasho Perché la wave ovviamente non posso lasciarla così a metà Gliela pusho al volo e scappo Perché? Perché c'è Twitch invisibile Ecco Messa un po' ma Invece non è invisibile Ma lo sarebbe stato se fosse rimasto ovviamente Quello è ovvio Alistar Assassin Sì sì Se non avesse avuto queste scarpe Ma quelle Magic Pen l'avrei shottato molto di più Perché ovviamente Jin ha poca Magic Resist Quindi quei 18 di Magic Pen Avrebbero fatta molta differenza Se non fosse stato sottotorre Quel cannone peccato È comunque bella la wave però Reportenautilus Così ha trovato il capo respiatorio Ah perché Afco Ok Eh come t'aiuto bro Ecco qua Ok È praticamente morto sto tizio Anzi è morto Senza praticamente È morto Punto Avete visto? Double killing bot lane Due gank di masterie Basta La wave è vinta La lane è vinta È così che funziona questo gioco ragazze Non serve gankare a caso Andare a fare tentativi No Non serve Ha visto? Alistair you are hella good Holy moly Visto Easy ragazzi Holy moly Grazie Tom Due sub giftati Grazie mille carissimo Grazie mille bro Avete visto? Serivano quei due gank giusti E poi la double killing bot E ragazzi ho preso il via E ho preso il via Vorrei fare gli all in Purtroppo Eh Ok Avrei voluto ammazzare anche Jean Però non avevo l'ignite Però era bello pushato Ragazzi non potevo farmela scappare Tanto adesso Jean sta con le pezze al culo Se lo vedo lo investo Eccolo lì Thomas DZ 1996 Gifti da tier 1 Sub gulofran 97 Io mai andrei fosse in te Jean Jean le ha le scarpe attack speed Vabbè Jet mucche Robsy Grazie mille Della resab Robsy Bentornato nella Felix army Eh ma allora Si scema Si scema Allo Ohee Eh che cazzo ragazzi Ma allora è scemo Questo Grazie Tom Di tutti sti sub giftati Lei è molto gentile Mi chiama Twitch Viene soltanto Alla stittare il minimo Ma che cazzo sta a fare Sto Twitch Boh Ue All'inizio era anche bravo Cioè stava farmando bene Mi stava poccando Quando andavo a farmare Mi teneva Obbligato sotto torre Perché Se andavo a farmare Mi puniva E adesso all'improvviso Boom È partito di testa All'aki ragazzi Probabilmente l'ha tiltato Perché ho preso troppo vantaggio Questo l'ha tiltato C'è il support afke Eccetera eccetera E niente Tom continuo E lui continuo In perterrito Adesso penso I one shot Allogin Se lo vedo Tu già in Kolog zero A casa A casa Double kill easy Double kill easy A casa Eccoli Eccoli Zazzà proprio Master Zazzà E le ragazzi Le ho rincasati per bene Cazzo Oddio La trottola Fantastic Fantastic Ragazzi Fantastic Grazie Tom Sei gentilissimo Grazie Di questi sub Bello Però si vede che Non li one shot In un colpo Perché non ho Magic pen Sapete C'è tipo Ludens Scarpe magic pen Gin Sarebbe saltato In aria Proprio senza Neanche bisogno Di quell'auto Attacco Oggiuntivo Arrivo Arrivo Qui sono tutti Fuori di capocchia Ve lo dico io Ma questo Scoo baby Niente Stato slowato Se no dai vavo Tanto c'ho la Wilt Vabbè ragazzi Sì però qua Veramente Che cazzo Ma che partite Sono Ma che partite Sono Che palle Già finita Ve lo dico Mi stavo anche Cioè stavo gasando Nemmeno la lice Mi sono riuscito a fare To 17 minuti Poi la gente dice Che negli uncut Non si diverte E dice vabbè Vedo già che dura 16 minuti È ovvio Ragazzi Che vi devo dire Mamma mia Comunque Cioè A livello di danni Non ci siamo Propri Cioè A livello di danni Cioè A livello di danni